Storia della razza. Kaomane è un'antica razza di gatti paragonabile al siamese, al corate e ad altre razze di gatti in Thailandia. Kaomane è menzionato nel libro Tamra Meov, o Po in fronte Book of Cats, che menziona anche gatti siamesi e gatti di un diverso colore del mantello, che sono endemici del paese della Thailandia o del Siam, come era precedentemente noto. I gatti Kaomane e sono bianco puro con un pelo corto, liscio e aderente. Nel regno di Ayutthaya 1351 dc, ci sono molti libri sugli antichi gatti siamesi, in cui sono registrati gatti come il gatto siamese, il gatto Korat, il gatto Sufalac, il gatto Konia e altri. C'erano 23 specie di gatti nel regno di Ayutthaya, 17 specie vivevano nel palazzo reale di Ayutthaya, ma non c'è traccia di Kaomane. Ci sono pochi ricordi gatti bianchi, ma nessun ricord specifico di Kaomane. Dopo il crollo del regno di Ayutthaya durante la guerra birmano siamese, i siamesi emigrarono nel regno di Tomburi. Uno dei templi più importanti di Bangkok è Vatarun. Un tempio buddista esiste nel sito di Vatarun sin dai tempi del regno di Ayutthaya. Quando il re Tazin fondò la sua nuova capitale, Tomburi, vicino al tempio dopo la caduta di Ayutthaya, furono scoperti documenti storici di Kaomane. Durante il regno del re Nanklao, Kaomane è menzionato più spesso. I gatti Kaomane sono famosi, e le loro immagini sono state trovate nei templi. Il gatto bianco era originariamente conosciuto come Kaoplort, e in seguito divenne è noto come Kaomane durante il regno del Recula Longhorn. Kaomane non deve essere confuso con i gatti siamesi o altri parenti siamesi, compresi i siamesi bianchi stranieri, che sono stati allevati da gatti siamesi di razza con un solo antenato British Shorthair dai capelli bianchi. Sebbene entrambi i gatti bianchi abbiano un'ascendenza comune, il gatto siamese e il Kaomane hanno strutture genetiche, pedigree e politiche di allevamento diverse, quindi il Kaomane è considerato una razza completamente diversa in Occidente, e nella sua nativa Thailandia. Sebbene la razza sia ben nota nella sua terra d'origine, è stata adottata solo di recente dagli allevatori di gatti occidentali, ottenendo lo status di sola registrazione nel maggio 2009. Il 3 settembre 2011, la razza è stata riclassificata come provisional New Braid. A partire dal 1 maggio 2012, e dal 30 agosto 2013, la razza è stata trasferita nella categoria Advanced New Braid. Recentemente il club CFA ha adottato la razza e l'ha inserita nella sezione varie, e poco dopo la razza è stata accettata in altre associazioni come la WCF. Molto spesso nei commenti alla razza Kaomane, puoi leggere che qualcuno ha trovato un gattino bianco con occhi blu o diversi per strada, e non sospettava che fosse un gattino di una razza così rara come Kaomane. Nel 2015, gli allevatori di Kaomane potevano essere trovati solo in Francia, in alcuni stati degli Stati Uniti, in Slovenia e nella stessa Thailandia, e l'unico allevatore di Kaomane nel Regno Unito ha smesso di allevare questa razza solo di recente, quindi è improbabile che questa razza rara possa sono arrivati nella tua città. Poiché Kaomane può essere confuso con qualsiasi altro gatto bianco dall'aspetto simile, normali gatti bianchi, anche con occhi multicolori, ce ne sono più di centomila sulla terra. Kaomane ha una propria struttura genetica, che determina l'appartenenza a questa razza. Il Kaomane di razza pura può essere importato dalla Thailandia. Punti salienti e fatti interessanti. Kaomane è una delle antiche razze naturali originarie della Thailandia, è tenuta segreta. Questo è affermato in una raccolta di poesie sui gatti conosciuta come Tamra Meovo, scritta nel XIV secolo. Kaomane è un gatto bianco pulito e brillante con un vivace colore degli occhi. Gli occhi simili a gemme, possono essere di qualsiasi tonalità di blu, verde, oro o fantasia. Il Kaomane è un gatto di ossa media e flessibile, muscoloso e atletico costruito per la stagione calda. Sono fedeli ai loro proprietari, e sono gatti curiosi e intelligenti, che hanno un forte senso di disobbedienza. Sono gatti piuttosto curiosi e adorano fare un buon gioco prima di rannicchiarsi con te per un pisolino. Conosciuta come la gemma bianca, si dice che Kaomane sia molto ricercato dalla famiglia reale thailandese e si crede che porti fortuna a chi ha la fortuna di averlo. Gli allevatori di solito, mettono in vendita i loro cuccioli a 12 settimane di età. A questo punto, i gattini avranno ricevuto le vaccinazioni di base, e avranno acquisito la stabilità fisica e sociale necessaria per un nuovo ambiente, esposizione o trasporto aereo. Aspetto. Kaomane è un gatto di corporatura media, altezza 25 al 30 centimetri, un gatto muscoloso che pesa da 2 a 4 kg, gatti da 3 kg e mezzo a 5 kg, con orecchie grandi, una testa a forma di core, e un ovale blu, ambra virgola occhi verdi o multicolori. Gli occhi multicolori, eterocromia, sono più rari, poiché i gatti con gli occhi multicolori sono più spesso visualizzati nelle fotografie di Kaomane, si crede erroneamente che gli occhi multicolori siano i più comuni. I gatti Kaomane hanno un mantello bianco corto, liscio, lucido e aderente con poco o nessun sottopelo. A volte nascono gattini bianchi con macchie scure sulla testa, che scompaiono nel primo anno di vita. In rari casi nascono gattini bianchi e neri o gattini con impurità di altri colori, ad esempio il rosso. La durata della vita di questa razza è in media dai 10 ai 12 anni. Tratti caratteriali distintivi. I Kaomane sono gatti molto intelligenti, curiosi, vivaci e giocherelloni che amano parlare con il loro proprietario, e sono molto attaccati a lui, quindi aspettati che il tuo animale domestico ti segua ovunque nell'appartamento. I Kaomane si distinguono per la loro simpatia e creduloneria anche nei confronti degli estranei, possono andare d'accordo con altri animali domestici e bambini, e sono anche adatti a chi non ha esperienza con i gatti. È anche importante sapere che i Kaomane sono animali molto socievoli che hanno bisogno della compagnia dei loro simili, quindi non prendere mai Kaomane se non hai almeno un altro gatto, o non hai intenzione di prendere due gattini subito. L'animale può annoiarsi molto in tua assenza, ai Kaomane non piace stare da solo a lungo, e difficilmente tollera la solitudine, e, in generale, richiederà troppe attenzioni. Se mantieni un solo Kaomane, gli effetti collaterali, come molti altri animali inclini a uno stile di vita sociale, possono essere depressione, aggressività, comportamento distruttivo. Salute. Il Kaomane è un animale molto sano, ma come molti gatti bianchi può essere sordo da una o entrambe le orecchie. Il potenziale di sordità di Kaomane è ridotto poiché solo gli animali udenti partecipano ai programmi di riproduzione. Inoltre, i gatti con le orecchie bianche sono più inclini al cancro dell'orecchio. Prezzo e come acquistare correttamente. Poiché il Kaomane è una razza molto rara, c'è un mito su internet secondo cui un gattino costa fino a 20.000 dollari. Nel Regno Unito, un gattino potrebbe costare circa 650 sterline e un gatto, o un gatto da allevare circa 900 sterline. Linea di fondo. Il gatto Kaomane, noto anche come gatto dagli occhi di diamante, è una rara razza di gatti originaria della Tailandia con un antico pedigree che risale a centinaia di anni. Sono menzionati nel libro Poesie dal libro dei gatti. I gatti Kaomane sono bianco puro con un pelo corto, liscio e aderente. Possono avere occhi blu, dorati o insoliti di ogni colore. Il Kaomane è dagli occhi strani è la varietà più rara. Sono gatti muscolosi e atletici che sono considerati attivi, socievoli e intelligenti. Sebbene la razza sia ben nota nella sua terra d'origine, è stata adottata solo di recente dagli allevatori di gatti occidentali. Grazie a tutti.